Benvenuti a un'altra puntata di Liguria Live, questa puntata un po' particolare, un po' strana, dopo vi spiego tutta una roba... Iniziamo con la sigla, vai! E allora iniziamo subito, iniziamo con una grande bellezza, la nostra Letizia, che la ragazza lì mi è sempre in giro, vediamo un po' dove è andata. Ciao Gabriele, siamo allo Zio d'America, un locale molto particolare, a parto 24 ore, si tratta appunto di un bar, tabaccheria e ristorazione, ma ve ne parlerò più tardi, a te la linea. Grazie alla nostra bella Letizia, dovete sapere che questo martedì a Genova, in pieno centro, precisamente in Via Galata, hai inaugurato una nuova realtà, con aperitivo, musica, DJ, tanta buona roba da mangiare, bella gente, noi ovviamente non potevamo mancare con le nostre telecamere e ci siamo andati. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Allora siamo qua al Master Via Galata 50 Rosso, siamo con i soci proprietari che sono Daniele, Luca e Niccolò. Grande realtà, grande serata, finalmente ce l'abbiamo fatta. Finalmente ce l'abbiamo fatta, dopo un discreto successo quest'estate a Santa Margherita Ligure, sempre col Master, siamo approvati a Genova settimana scorsa. Il locale sembra funzionare molto bene, lo imposteremo soprattutto sul pranzo a mezzogiorno, sugli aperitivi e dal 10 ottobre anche sulla cena, perché abbiamo il cuoco Niccolò che è uno dei più bravi di tutta la Liguria, quindi punteremo molto sul cibo. Specialità nostra per l'aperitivo i fragolini, fatti con fragole fresche, il bellini con la pesca fresca e una marea di stuzzichini e sempre musica nuova, DJ e tante cose belle. Vi aspettiamo tutti in via Galata 50 al Master, sempre solo New Master. E siamo qua col cuoco, Niccolò è uno dei proprietari, soci, cuoco, quant'altro, insomma cosa propone qua al Master come cucina? Dal 10 ottobre faremo un ristorante alla cucina principalmente di pesce, freschissimo, dalle crudite a grigliate di pesce a tipico... Non dimentichiamo i nostri scampi alla Portofino, che a me ci caratterizzano da anni a Santa Margherita. E di vacazione di carne, tutti i primi fatti in casa e sarà un ristorante di alto livello su cui si può mangiare una buona qualità, diciamo. E a noi ragazze le veline ci fanno un bapo perché siamo qua con le mascotte del Master. Damara e Chiara, una precisazione, Damarra, la R e la R Mosha. Allora ragazzi che cosa troviamo, che clientela troviamo e come è il Master, cosa troviamo? Allora qua finalmente è un locale comunque dove c'è un tipo di clientela un po' più grande d'età e c'è anche direi un barista, un barman che è il migliore di tutta Genova che si chiama Ugo, senza niente togliere agli altri dipendenti. Però devo dire che come barman è ottimo, cocktail fantastici, infatti si vede anche forte dalle nostre faccette. È il classico McDonald's Bar che a Genova è sempre mancato. Ottimo. Noi saremo qua tutti i martedì sera alla pericena e voi vi aspettiamo. E l'hanno decantato tante, siamo qua con Ugo, il barman. Quindi che ci dirà qual è il suo cocktail, il cavallo di battaglia, il cocktail che va di più. Ciao a tutti. Allora direi che qua i cocktail che vanno di più sono quelli che abbiamo portato dalla riviera, da Santa Margherita, cioè Fragolino, Rossini e Bellini. E la specialità del Master è una tradizione che portiamo avanti da anni. Io ho lavorato a Santa Margherita per dieci anni. Adesso sono venuto qua con lo scopo di diffondere questa tradizione anche qua a Genova. E siamo qua al Master con Simoncino DJ. Buonasera a tutti, questo è il Master. Facciamo la pericena, partiamo dalle 18-18.30 fino alle 22 più o meno. Abbiamo un buffet molto ricco fatto dallo chef Nicolò. C'è Daniele Trorbanco, Ugo, il barman. Tutti i soci sono presenti ogni martedì sera. Abbiamo le ragazze che fanno la loro figura. E io accompagno tutto l'aperitivo dalle 18.30 alle 22. Faccio una scaletta, si parte dalla musica di sottofondo e poi verso il fine serata cerchiamo di fare un po' più di casino. E allora, vi avevo detto che questa era un po' particolare perché adesso iniziamo un po' a fare un po' di revival di tutto il vissuto delle varie serate. Come sapete tra poco ci saranno le varie inaugurazioni della nuova stagione 2013, quindi noi che siamo molto molto avanti, cosa facciamo? Facciamo un passo indietro un po' con quelle che sono state le serate che magari avete vissuto anche voi, chi lo sa. E iniziamo con il Mako che inaugurerà questo venerdì. Bye! Ciao! Ciao! Grazie a tutti 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 Tutti la pizza Come vuoi tu la pizza Passiamo tutti pizza qua Come vuoi la gente anche mangiare Grazie a tutti